A seguito di controlli del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, i finanzieri della compagnia di Cava dei Tirreni hanno scoperto 33 lavoratori completamente in nero. Al momento dell'accesso, nell'ora di maggior afflusso dei clienti, presso le sette attività commerciali controllate nella località turistica di Cava dei Tirreni, Maiori, Minori, Cetare e Vetri sul mare, le fiamme gialle hanno identificato oltre 40 tracamerieri e parcheggiatori. I successivi riscontri hanno consentito di rilevare che di questi ben 33 non erano stati assunti regolarmente, risultando violate le norme in materia di impiego del personale, di assistenza previdenziale, nonché di tutela, della salute e della sicurezza. Uno, in particolare, era intento a servire ai tavoli di un noto ristorante cavese, pur beneficiando dell'indennità di disoccupazione. Al termine delle attività ispettive, i finanzieri hanno segnalato i rappresentanti legali delle società controllate all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, competente per l'irrogazione delle sanzioni amministrative per un valore complessivo di oltre 100.000 euro, nonché per il recupero dei contributi non versati. Per tre di queste società potrebbe ora scattare la sospensione dell'attività commerciale.